Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un Incanto Vivo. Spero dopo la condividere a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Quando guardo gli alberi e loro lento andeggiare al vento, provo emozione e mi prendono i brividi perché è bello vedere questa atmosfera naturale che ci attrae e ci fa capire che la natura è viva, si muove. Quando accarezzo un fiore e tocco la sua pelle velutata, provo vere sensazioni perché è bello toccare con mano la natura e vedere il suo incanto vivo. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un Incanto Vivo. Quando guardo gli alberi e il loro lento andeggiare al vento, provo emozione e i brividi con tanto ardore mi prendono. Quando accarezzo un fiore e tocco la sua velutata pelle, provo sensazioni vere ricche di emozione lucicante. È un incanto vivo questo spettacolo naturale ed io, fermo e sbalordito, mi metto a pensare a tante cose. È un'emozione forte e sa donarmi tanta passione, sa essere ricca di promesse che mi infondono l'ideale solenne. Grazie, spero la condividete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.